Musica Necessario sfruttare i fondi dell'area di crisi, a chiederlo ai sindaci e al presidente Frattura durante un incontro, occasione importante per portare fuori dalla recessione economica e occupazionale la nostra regione, hanno detto i primi cittadini. Come affrontare le emergenze e cosa fare in caso di terremoto? Se ne è parlato a Baranello con l'esperto Romano Torto, intanto a Di Sernia protesta delle mamme della Don Bosco, la scuola nell'immobile Cicchetti non è sicura. Area del Matesi, arrivano i fondi, il Ministero dello Sviluppo Economico ha finanziato un progetto per migliorare sanità, istruzione e trasporti in 14 comuni delle aree interne. Open Day Le scuole aprono al pubblico, diversi gli istituti visitabili tutta la giornata per presentare agli studenti e genitori l'offerta formativa e gli spazi. Buona domenica, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise. Dunque l'area di crisi è un'opportunità fondamentale per il Molise. Sfruttarne a dovere i finanziamenti è fondamentale per portare fuori dalla recessione economica ed occupazionale la nostra regione. Se ne è parlato al Consorzio Industriale di Sernia-Venafro con l'intervento dei sindaci e della provincia Pentra e del governatore Frattura. Enzo Di Gaetano Sfruttare a dovere i finanziamenti previsti per l'area di crisi è fondamentale per la nostra regione, dilaniata da una crisi economica e occupazionale senza precedenti. E sono tanti i comuni della provincia di Sernia che ricadono nell'area di crisi, segnatamente quelli del Consorzio Industriale di Sernia-Venafro, nella cui sede il Presidente Stefania Passarelli, che è anche Sindaco di Pozzilli, ha riunito i suoi colleghi per un incontro con il governatore Frattura. Stefania Passarelli, Sindaco di Pozzilli, perché questa iniziativa? Lei è anche commissario del Consorzio, perché tutti i sindaci qui per parlare con Frattura? Questa è un'iniziativa nata per un senso di insofferenza che avevano i sindaci della provincia di Sernia. Per cui in un incontro precedente con il Presidente ho detto Presidente, i sindaci della provincia di Sernia lamentano una mancanza di rapporto diretto con lei e soprattutto di una mancanza di finanziamenti in provincia di Sernia. Per cui sicuramente io non credo a quello che si dice, incontriamoci e verifichiamo questa cosa, discutiamone e cominciamo ad aprire un confronto. che si è fatto in una struttura che sia al di sopra delle parti il Consorzio Industriale, che credo che sia la prima volta che ospita un Presidente con tutti i sindaci in una struttura che non sia un ambiente prettamente politico. Area di crisi, Consorzio Industriale, che cosa vuol dire, quanti soldi ci sono e come impiegarli, Presidente? Parliamo di fatti. Sì, noi abbiamo già detto che la prima parte di cofinanziamento per il riconoscimento dell'area di crisi valgono i 50 milioni di euro, quale compensazione per le tre regioni in transizione Molise, Abruzzo e Sardegna. Quindi sono i primi 50 milioni che impegniamo. Ma con la stessa logica però impegniamo le risorse della programmazione comunitaria e anche quelle del patto per il Molise all'interno del Masterplan per il Mezzogiorno. Ecco, per esempio, in questa zona del Consorzio Industriale, quale potrebbe essere il primo obiettivo da centrare? Il primo obiettivo sicuramente è quello di garantire una logistica vincente. Quindi l'elettrificazione significa sicuramente rendere operativo finalmente il raccordo ferroviario che significa economie importanti per la logistica e questo sicuramente maggiore competitività attrattiva per quest'area. Ma nello stesso tempo abbiamo incentivi per la competitività delle aziende. Speriamo con questi passaggi di garantire anche una diversa attrattività. Ritengo che valorizzare soprattutto la logistica considerando gli investimenti fatti nel passato sia un passaggio importante sul quale tutti dobbiamo puntare. Comunque l'atmosfera alla fine dell'incontro non era delle migliori perché ancora una volta Frattura si è limitato ad un elenco di buone intenzioni e diversi sindaci sono rimasti scettici e diffidenti non credendo alle promesse del governatore. Come comportarsi in caso di terremoto di un'altra calamità, un'altra emergenza? Se ne è discusso nel corso di un incontro organizzato dal comune di Baranello, paese che da dieci giorni è epicentro dello sciame sismico che sta creando preoccupazione in molti centri della Molise. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Sono trascorsi dieci giorni dalla prima scossa di terremoto, la prima di una lunga serie che ha avuto il suo apice sabato scorso con una magnitudo di 4.3 e che continua ancora oggi, anche se con scosse di intensità minore, a far tremare la terra su gran parte della provincia di Campobasso. La zona maggiormente interessata è quella di Baranello e proprio a Baranello l'amministrazione comunale ha organizzato un incontro per sensibilizzare i cittadini su come comportarsi in caso di terremoto ma anche di altre emergenze. L'iniziativa si è svolta all'interno del nuovo edificio scolastico realizzato con criteri antisismici. Ci troviamo presso la nuova scuola antisismica realizzata qualche mese fa dove un esperto di maxi emergenze sta illustrando alla popolazione il corretto comportamento da avere durante un evento catastrofico come quello appunto del terremoto. Durante la fase dell'emergenza noi abbiamo il nostro gruppo comunale di protezione civile dove già abbiamo attivato il piano e sappiamo in sostanza come comportarci per quanto riguarda l'individuazione dei punti di ammassamento della popolazione in caso di inagibilità dei fabbricati e soprattutto definire una corretta informazione laddove la popolazione si sente impaurita e soprattutto presa dal panico. Prezioso il contributo di Romano Torto esperto nella gestione dei soccorsi delle maxi emergenze. Maxi emergenze ne ho fatte tante l'Aquila, anche San Giuliano, qui a Imolise. Bisogna innanzitutto prevenire in questo senso capire dove ci si trova, quindi nella scuola come è strutturata quali sono i percorsi, quindi fare esercitazioni è importante esercitarsi prima che le cose accadono quindi sapere quali sono i muri portanti, come uscire come muoversi, come rifugiarsi, come ripararsi trovare per esempio nella scuola le porte le porte che sono situate nei muri portanti cercare quali sono le travi, non affollarsi per le scale a volte non tutti sanno che le scale sono il punto debole delle case quindi magari è preferibile ripararsi piuttosto che correre sicuramente non usare gli ascensori anche se funzionano quindi dare dei messaggi, le indicazioni giuste per poter gestire per quello che si può in un momento del genere. La scuola ubicata nell'immobile Cicchetti è sicura lo dice anche la perizia disposta dalla preside di Sanza ma le mamme dei bambini della San Giovanni Bosco continuano a fare resistenza e la polemica si accende a Isernia proprio nella giornata degli Open Day. Enzo Di Gaetano Nella giornata di festa dedicata agli Open Day una polemica ha avvelenato il clima scolastico a Isernia si tratta della irrisolta questione della scuola dell'infanzia della San Giovanni Bosco che non riesce a trovare una soluzione condivisa da tutti dopo l'ordinanza di trasferimento a San Lazzaro nei locali della tipografia Cicchetti la preside ha fatto eseguire anche un'altra perizia che ha confermato la salubrità dello stabile ma parte delle mamme non molla loro lì, i loro bambini non li vogliono proprio portare Queste criticità sono state già segnalate ma non è che io abbia scelto o non scelto dei locali ho fatto presente che ci sono delle criticità le ho segnalate il commissario prefettizio e il comune le stanno risolvendo non aspetta a me scegliere i locali io sono un pubblico ufficiale che fa un altro lavoro e sono per il rispetto dei ruoli quindi per me, purché sia una sede a norma mi va benissimo Fin qui le polemiche nella giornata degli open day scolastici che hanno visto porte aperte alla media Andrea Disernia dove è stato presentato il nuovo corso di percussioni e anche al liceo artistico Manuppella dove è stato presentato il nuovo corso per gli stilisti di moda Qui c'è la sezione design di moda oltre anche a altre sezioni come design metalli, ceramica e architettura ambiente Nella nostra sezione, come potete vedere, è possibile realizzare e creare degli abiti in questo caso sono stati realizzati con la tecnica del mulage quindi direttamente sul manichino ma si insegna il prodotto moda che va dal campo dell'abbigliamento a quello dell'accessorio E ci sono buone notizie in arrivo Per 14 comuni dell'area del Matese il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti finanziato un progetto per migliorare sanità, istruzione e trasporti nei comuni delle aree interne Dei possibili interventi da attuare se ne è discusso durante un incontro organizzato a Roccamandolfi Sentiamo Sergio Di Vincenzo Lo spopolamento dei piccoli comuni non è un fenomeno inarrestabile può essere arginato, si può invertire la tendenza di questo ne è convinto il Ministero dello Sviluppo Economico che ha delineato una strategia nazionale per le aree interne che si propone di potenziare i servizi essenziali a partire dalla sanità e dall'istruzione Nella nostra regione è stata scelta l'area del Matese che abbraccia 14 comuni di entrambe le province per mettere a punto il progetto curato dal Gal Molise è stato organizzato un incontro a Roccamandolfi Sono state selezionate 19 aree pilota quella del Matese è l'area selezionata per il Molise e saranno discussi, concepiti e realizzati due tipi di intervento sostanzialmente il primo con un contributo di circa 4 milioni di euro per consolidare e rafforzare i diritti di cittadinanza dei piccoli comuni quindi servizi, scuola, sanità e trasporti in modo particolare la gente dei nostri piccoli comuni, delle aree interne resta in questi luoghi se sta bene e quindi si punta a migliorare i servizi naturalmente questo non è sufficiente poi ci saranno altre iniziative sostenute dalla regione, dai fondi comunitari per innescare processi di sviluppo in quest'area in particolare sul turismo e l'agroalimentare L'incontro è servito per raccogliere idee e proposte per arrivare in tempi ragionevoli all'accordo di programma quadro destinato a dare un aiuto importante ai piccoli comuni L'obiettivo è quello di migliorare i servizi nei nostri comuni e quindi si parla di sanità, di istruzione, di mobilità e l'obiettivo è di aumentare la qualità della vita ovviamente questo incontro di programmazione territoriale serve a sentire il territorio ad ascoltare le esigenze di associazioni, cittadini, imprenditori al fine di rispondere alle reali esigenze del territorio quindi non più una politica che cala dall'alto ma una politica partecipata e anche con l'obiettivo di coinvolgere e di rispondere alle effettive esigenze che il territorio riclama e che giustamente avverte Open Day oggi al liceo classico Mario Pagano di Campobasso liceo scientifico di Riccia e all'artistico Manzu Open Day al liceo classico, al liceo scientifico e al liceo artistico parliamo un po' dell'offerta formativa delle scuole che cosa state proponendo ai genitori? Il liceo scientifico di Riccia ai genitori proponiamo soprattutto la tranquillità perché sappiamo quanto sia difficile la scelta per cui li rassicuriamo certamente è una scelta difficile è una scelta che impegna per cinque anni ancora e quindi cerchiamo di essere stravustivi in tutte le loro richieste Qual è il punto di forza di un liceo rispetto ad una scuola tecnica? Il liceo prepara l'università quindi studio sodo studio al classico soprattutto umanistico le materie scientifiche hanno maggiore attenzione e abbiamo da due anni io sono preso anche del liceo artistico nella nuova sede qui in via Scardoccia che è un'offerta formativa veramente valida e pensiamo di incrementare con un nuovo corso di design della moda nei prossimi anni Il liceo classico non è più soltanto un liceo diciamo così come era prima solo latino e greco adesso offre anche qualcosa in più? Sicuramente la società cambia quindi dobbiamo adeguarci la preparazione è per la vita e quindi le materie classiche sì hanno sempre comunque la loro importanza però anche adesso con la riforma quindi col potenziamento con nuove materie quest'anno stiamo introducendo la musica, diritto ed economia e quindi incrementiamo anche lo studio della matematica e quindi questo potenziamento offre l'opportunità ai ragazzi di migliorarsi in tutti gli aspetti Chi invece volesse andare al liceo scientifico di Riccia cosa trova? Il liceo scientifico di Riccia trova una scuola che è una grossa tradizione oramai da 50 anni i risultati anche della fondazione Agnelli sono ottimi stiamo incrementando perché i paesi vicini limitrofi anche del Beneventano stanno compluendo tutto su Riccia è una buona scuola ci sono 150 ragazzi quindi c'è un'attenzione particolare ad ognuno di loro stiamo collaborando con il comune di San Giuliano del Sagno con il comune di Gambatesa con la caserma dei Carabinieri di Castropignano vanno realizzate delle opere per il Proveditorato sono dei ragazzi impegnati artisti a tutto tondo ottimo corpo insegnante nella nuova sede i ragazzi sono più tranquilli si possono esprimere meglio una scuola sicura soprattutto perché è antisismica in questo periodo qui è anche importante questo aspetto anche a Riccia abbiamo la scuola nuova oramai da tre anni anche lei è antisismica anche questa è stata messa a norma ed ora vi presentiamo una nuova centenaria si chiama Dorina Fatica ed è stata festeggiata da parenti e amici adoratino Daniela Ziccarpi siamo con la signora Dorina Fatica 100 anni un traguardo importante per lei e soprattutto festeggiarlo con questa fantastica famiglia che si è tutta riunita qui per l'appunto per questo grande evento mi ha fatto tanto e tanto piacere veramente sono contentissima una vita dedicata alla famiglia ai suoi tre figli in particolare un pezzo di vita anche lontano dal Molise lontano da Oratino in Svizzera sì, quello, sì quello mi dispiace ma purtroppo l'essenziale è che stanno bene quello è tutto il segreto di questi 100 anni qual è? non lo so sono arrivata con pensieri che chi lo sa che ci arriva chi lo sa e ci sono arrivata una vita trascorsa per l'appunto fatta anche di tanti sacrifici però sempre con l'attaccamento per l'appunto al Molise alle tradizioni alla sua Oratino sì, sì, sì ho sempre lavorato insomma normalmente stiamo anche con i tre figli della signora Dorina Pinucciada e Pietro siete ritornati anche dalla Svizzera per festeggiare questo grande traguardo 100 anni un ricordo anche particolare in questa lunga vita tutti i ricordi sono bellissimi una mamma meravigliosa sempre attenta alla famiglia che ha trascorso anche parte della sua vita tra l'altro in Svizzera un po' non molto ma dieci anni forse sì per lei Ada? educati tutte le cose della vita rispetto onore le cose migliori della vita e il figlio maschio l'unico una mamma meravigliosa perché arrivare anche a 100 anni non è facile oggi e allora ha fatto tanti sacrifici per noi tre e anche per il papà che è morto da alcuni anni ed è tutto per la nostra informazione grazie per averci seguito a tutti voi buon proseguimento con i programmi di Telemolisse grazie per aver guardato